Ciao a tutti ragazzi, purtroppo ormai lo sappiamo tutti, Chiesa ha subito una lesione al crociato del ginocchio sinistro e quindi ha terminato qui la sua stagione bianconera, lo vedremo poi probabilmente l'anno prossimo e ora è necessario intervenire sul mercato ma lo era già prima, quindi figuriamoci adesso dove perdiamo quello che per quanto mi riguarda è il nostro giocatore migliore là davanti, quello che era in grado di accendere la luce ed è davvero un peccato perché già l'andata il grande assente era stato Federico Chiesa, il ritorno era partito benissimo dove con il Napoli aveva fatto gol e con la Roma aveva fatto assist e niente, questo è, questo è e quindi prepariamoci a qualcosa di diverso ecco, perlomeno io un'idea su qualche social l'ho già lanciata, adesso ne parleremo in un secondo momento, questo è il video che dedico alle pagelle, vi ringrazio per il supporto vi chiedo ancora una volta di lasciare un mi piace, l'obiettivo è provare a arrivare almeno a 3000 like per le pagelle, visto che siamo arrivati a 5000 per il post partita, oltre 6000 per la live reaction, 3000 per il pagelle del giorno dopo, direi che è un numero adeguato per veramente concludere un Roma-Juventus fuori di testa e iniziare a proiettarci invece sulla sfida all'Inter del 12 dove non avremo, vabbè, Chiesa per infortunio, Delete e Quadrado per squalifica, per da parentesi, che stronzata è che la Supercoppa che è un trofeo a parte vada a prendersi le ammunizioni, l'espulsione del campionato? fateci saltare semplicemente, vabbè, questo è ovvio che oggi lo dici perché ti succede ma a prescindere, proprio una roba assurda, ma l'accettiamo, andremo a San Siro a giocare una partita senza tipo tutti i nostri uomini migliori, ma va bene non so se iniziare dal voto di Allegri barra Landucci, nel senso che non ho idea a chi va attribuito la valutazione di ieri, ad ogni modo, 3, 3, 3, fino al sessantesimo, dallo 0 al 60 voto 3, 9, quello che abbiamo visto dopo, per i cambi, per l'atteggiamento, per il cambio di mentalità, ne ho parlato nel video prima, stamattina ho fatto uscire un altro video, lo trovate qui sul canale, 9 più 3 fa 12, diviso 2 fa 6, quindi non posso dare il voto più alto della storia per la rimonta, avessimo perso 3 a 1, quella partita era banda 3, fino a quel momento era banda 3, quindi penso che meno male il voto giusto sia questo, l'equilibrio, ci si porta a casa la sufficienza per averla risolta, per essere riusciti a cambiarla sta partita, tante cose che non andavano, e le abbiamo già analizzate, abbiamo già capito, che è un problema sia di personalità, sia di valore tecnico, però qui gli allenatori, l'allenatore, che adesso tornerà allegri, torna fuori nel discorso, perché se ormai abbiamo capito che Alexandro, Rabiot, non possa andare niente, che lo stesso Bentancur, che ha fatto una partita tremenda, è un po' così, perché continuare a farli giocare? Punto di domanda. Poi è ovvio che l'allenatore, se fa giocare determinati giocatori ritieni in panchina altri che sono migliori, è un problema, è un problema, è ovvio che alcuni li puoi tenere in panchina perché dici, me la risolvono, ma non puoi dire, tengo in panchina Arthur e metto su Bentancur o Rabiot perché me la risolve Arthur quando entra, non esiste, cioè questa roba non esiste. Quindi iniziamo a sfruttare i giocatori che abbiamo, i migliori giocatori che abbiamo, e cerchiamo di trovare una quadra con dei titolari, come dicevo prima della partita e soprattutto dando tecnica a questa squadra che iniziamo ad avere delle carenze tecniche importanti. Partiamo da questi punti che ci portiamo a casa dalla vittoria con la Roma. Poi c'è Scesni, ragazzi Scesni all'andata gli avevo dato sette e mezzo per aver parato con il rigore avere tu. Devo migliorarlo questo voto. Gli la prendi cazzo Tec, gliela prendi, gliela prendi cazzo Tec. È da otto Scesni, è da otto in pagella, otto si becca Scesni. Perché non solo para con il rigore che va bene, Pellegrini ha sbagliato, quello che volete, ma ci tiene vivi. Ci tiene vivi anche con quell'intervento che fa poi verso la fine, dove chiude gli occhi, dice all in e becca la palla. Ragazzi, la parata più importante della stagione, più di quella parata su Joao Pedro allo Stadium, più della parata di Locatelli con lo Spezia. Questa, questa parata qui, senza questa parata qui, game over, inserire il gettone, nuova partita, ci pensiamo poi all'anno prossimo probabilmente. Invece siamo vivi, perché se dobbiamo portarci a casa qualcosa di positivo da questa giornata, dopo che Chiesa l'abbiamo perso per tutto l'anno, è proprio questo, che abbiamo vinto anche senza Chiesa e che usciamo da Roma con almeno una notizia positiva, oltre alla notizia tremenda di Chiesa. E questo avviene grazie a Chiesa, che ha completamente ribaltato tutto quello che si diceva all'inizio del campionato, e si diceva giustamente, perché quando uno sbaglia poi Chiesa è stato il primo ad ammettere, è stato il primo a dire, oh ragazzi io capisco le critiche perché quando succedono queste cose, però poi bisogna lavorare, e Chiesa ha lavorato, e questi sono i risultati, e adesso ci sta tenendo a galla. Otto pieno, Otto pieno Chiesa. Delete, allora ve lo dico subito, Delete è il peggiore in campo, Delete è il peggiore in campo per un motivo, da 4, voto 4 a Dice Delete. Ma in tanti interventi nella partita mi è piaciuto e ho pensato, ma meno male che c'è Delete. Però poi, vai a vedere gli episodi, la punizione di Pellegrini nasce da fallo di Delete, dove è vero che facciamo una puttanata sulle punizioni noi e ci prendiamo un contropiede, quindi Delete fa una roba incredibile prima per, però poi fa fallo e si becca il primo giallo. Delete viene espulso e provoca quel rigore che poi para Chiesny. Aggiungo io, secondo me, questa è la mia posizione, sul primo gol di Tammy Abram, io ho sentito in tanti che dicevano, è colpa di Rugani, io vado a rivedere quello che è stato il primo gol, ve lo metto anche qua a schermo, per come la leggo io, vi ho messo Tammy Abram in rosso, vi ho messo in blu tutti i collegamenti, quindi tutti i giocatori che si stavano marcando, mentre ancora i McKennie erano sul cristante, c'era Rugani che marcava Smalling, c'era Quadrado che marcava il ragazzo che entrava, insomma, qua ci sono tutte le marcature. E poi c'è Delete, lì, da solo, che guarda Tammy Abram, contatele anche, sono 5 della Roma in area, contro 7 della Juve a marcare più Chiesa in area, ma non sta marcando. Com'è possibile che noi con due uomini in più, in marcatura, che poi sono 9 se contiamo anche Chiesny e Chiesa, riusciamo a lasciare libero l'attaccante, la punta centrale? Per me Rugani sta marcando Smalling, se poi vogliamo ammettere che c'è in Dancourt lo sviluppo di questo calcio d'angolo, poi salta la gazzetta dello sport, salta 5 centimetri e che quindi fa passare quella palla che arriva su Tammy Abram, ma siccome Tammy Abram è lasciato colpevolmente libero da Delete, che dovrebbe prendere l'attaccante, è il marcatore, è il centrale della Juventus, è quello che probabilmente guida anche la difesa, essendo il centrale migliore, e te ti becchi l'attaccante, ti vai a marcare l'attaccante, non lo puoi lasciare libero da solo in area di rigore. Io questo ve lo dico dopo aver rivisto tante volte il replay rallentatore del gol che abbiamo preso, secondo me, qui è un errore di Delete, grave, quindi si mette insieme tutti questi errori, è ovvio che diventi il peggiore in campo, quindi 4, però tante volte ho pensato, meno male che c'è Delete, penso senza Delete comunque, nonostante tutti questi errori, che disastro, andiamo avanti. Rugani, come vi dicevo secondo me, non ha colpe su quel gol lì, e nel complesso ha fatto anche una buona partita, culmine all'ultimo secondo, poi si va a fare quell'intervento là, sul finale, a buttare fuori col piedone. Secondo me Rugani, che oggi è sufficiente, è da 6, perché è ovvio, in una difesa che si è presa 3 gol, qualcosina devi mettere in conto, ma Rugani ha fatto una partita sufficiente, abbondantemente forse anche sufficiente, forse anche qualcosa di più di 6. Quadrado, meno male che si salva con quel, tra virgolette, assist sul gol di Kulusevski, però non è una gran partita di Quadrado, è oggi, poi anche Ammunito fa quell'entrataccia, e si becca il suo 5,5. Desciglio 7,5, glielo voglio dare, perché se mi risolvi sta partita qua, tu che sei il terzino di riserva, forse la riserva della riserva della Juventus, ti becchi 7,5, ti becchi 7,5 gli applausi, i grazie e forse anche le scuse di tanti. Bravo Mattia, 7,5. Do 7,5 pure Locatelli, ma vi spiego anche il perché, ma poi ne abbiamo parlato nell'analisi tattica, alla veloce in realtà l'analisi tattica. Però Locatelli ti fa il gol del 3-2, Locatelli dà il via all'azione del gol del 3-3. Locatelli appena ha avuto di fianco a sé un altro centrocampista, e che andava a togliergli dei compiti perché fino adesso Locatelli ti ha tenuto in piedi il centrocampo da solo. Salito di cattedra, salito di regia, aumentato i giri del motore, diventato più decisivo. Se vinci sta partita è perché Locatelli ti fa gol e ti fa nascere un altro gol. Quando sale in cattedra così un calciatore, secondo me ragazzi, bisogna prendere nota, bisogna dirgli bravo. Poi secondo me non aveva fatto una partita tremenda anche nel disastro della Juventus, aveva continuato a fare il suo, ma Locatelli è sempre questo risucchiato nelle sabbie mobili di una squadra che non funziona, ma dove lui dà sempre il suo apporto. Da dire o no oggi Locatelli è insufficiente, fai fatica a dirlo. E ieri veramente ti ha svoltato e ti ha risolto una partita con due giocate delle sue, 7 e mezzo. McKennie, McKennie do 5, ma non per colpa sua, mi spiego anche meglio. Sballozzonato a destra, a sinistra, al centro, esterno, messo un po' di qua, un po' di là, sulla tre quarti, dietro la punta, avanti e indietro per il campo, McKennie viene fatto fare qualsiasi ruolo. Che si decida un modulo. E sinceramente anche basta con sto centrocampo storto. Perché dobbiamo mettere dei mediani a fare gli esterni? Ma spiegatemi perché dobbiamo mettere dei centrocampisti delle mezze alle a fare gli esterni. McKennie, c'ha affiuto per il gol? Sì. Va in area? Sì. È un giocatore che attacca lo spazio? Sì. Gioca tra le linee? Sì. Non è tecnicamente eccelso, non stiamo parlando di De Bruyne. E di questo siamo d'accordo. Ma mettetelo nella condizione di far bene. Abbiamo capito che Artur libera Locatelli e che anche McKennie, con Locatelli e McKennie mezzeali, possiamo fare qualcosa bene. Abbiamo trovato il centrocampo a tre, non il centrocampo a due e mezzo con Locatelli storto, come era l'anno scorso con Pirlo e come stiamo vedendo quest'anno. Prima era Rabiot, adesso Locatelli. Ma mettete tre mediani come Dio comanda. Ma quanti anni ci sono stati di pallone in cui, se c'hai tre centrocampisti, fai un centrocampo a tre normale, con un regista davanti alla difesa, un mediano e due mezzeali. No, noi dobbiamo farlo sempre un po' così, un po'... Ma dai ragazzi, ma su. Che poi, poveraccio McKennie, non si capisce in che ruolo ha giocato, perché un po' era qua, un po' era là. E alla fine dici, vabbè, ha corso avuto tutta la partita. Vabbè, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Io sono convinto che se adesso ti metti a fare sto centrocampo a tre fatto bene, McKennie ti rende. E Locatelli pure. E trovi i gol dei centrocampisti che allegri per tanto tempo. Ho detto, eh, ci mancano, ci mancano, eccoli! Abbiamo capito come fare. Mettilo nella condizione di far bene. Quattro e mezzo a Bentancur. Ne arte, ne parte. Ne arte, ne parte. Sei mezzo a Chiesa, che comunque, sta partita la vince anche perché Chiesa fa quel passaggio di Dybala, eh? Finché c'è stato, sempre cuore, anima, polmoni, corsa, grinta, voglia. Torna anche dentro, perché la vuol finire sta partita. Io però qua dico una roba. Da casa mia, a guardare la partita, il primo replay che fanno vedere, si capisce che è qualcosa di grave al ginocchio, lo staff medico della Juventus che lo va a soccorrere e curare. Non l'ha capito? Che poteva essere una roba grave? Dobbiamo per forza farlo tornare dentro e provare? Io capisco che ragazzi voglia provare, ma questo qua si mangerebbe il campo pur di far vincere la Juventus. Ma Dio santo! Magari era anche meno grave. E spingendo su quella gamba per fare quello scatto, ha peggiorato la situazione. Dai ragazzi, su, per cortesia, torna presto Federico, ti voglio bene. Dybala, sei e mezzo, grandissimo gol. Grandissimo gol. Poi però si perde. Dove è finito? Dopo Dybala. Ci ha messo a disposizione della costruzione, del palleggio. A volte andava a prendere la palla sul centro-destra, a volte si allargava, a volte andava a prenderla dietro. Però da Dybala, da Dybala, in questa squadra, ti aspetti leadership. Ti aspetti che lui ti cambi la partita davvero, con il gol che ha fatto, e che poi magari te ne faccia un altro lui. Non che diventi uno dei tanti lì in mezzo. E questo è lo step che chiedo Dybala in questo momento. Perché ora abbiamo bisogno che Dybala si prenda in mano sta squadra. Non che si limiti a fare un gioiello, perché è un gioiello quello che fa all'interno della partita, e poi si abbassi anche lui ai ritmi. No, se sei il capitano della Juve, e se sei il giocatore determinante ora della Juventus a livello tecnico, prendi la squadra in mano e l'accompagni verso la rimonta. Sei mezzo, perché il gol è strepitoso. Però ci sono tante piccole carenze, secondo me, nelle prestazioni di Dybala. Ken, quattro e mezzo. E qualcuno è arrivato a dirmi eh, quel post che avevi fatto tra Ken e Morata. Allora, se ci limitiamo al post è un conto. Se andiamo a vedere il video che ho fatto su YouTube, dico questo. In questo momento c'è un divario incredibile, più forte è Morata. Ma questo non significa che Morata non possa entrare e cambiarti la partita. E stiamo gestendo male i cambi anche, secondo me. Perché ragazzi, è giusto che sia così. Se credi sui giovani vai sul lungo. Inizia a valorizzarli. E poi in un campo da calcio ci deve sempre essere questa contrapposizione in una squadra tra titolari e riserve e questa lotta interna. Quindi è giustissimo che sia così. Ken ha fatto una prestazione tremenda, da quattro e mezzo. Veramente bruttissima. Morata entra, te la risolve. Tutti contenti. Artur entra e cambia la partita sotto il profilo tecnico. 6 e mezzo pure per lui. E anche a livello di personalità, eh. Bentancur guarda e impara. Prendi appunti. Vabbè, Chiellini entra e fa il suo. Senza voto. Se no diamogli il suo 6 di partecipazione. Ma quando Giorgio Chiellini si mette il turbante, i ragazzi mi emoziono. Kulusevski 6 e mezzo perché non mi è piaciuto tanto Kulusevski nell'arco della partita, ma due cose le doveva mettere in conto. Il gol, che è la più importante, te lo porti a casa, e alcune espressioni di cattiveria di Kulusevski in alcuni momenti in cui ha veramente tirato fuori i coglioni. E questo è un passo avanti per Kulusevski, ma va mantenuto. 6 e mezzo, Kulu. Bravo. E 7 e Morata. 7 e Morata perché ha completamente cambiato la partita. Ha dato quella mobilità lì davanti che mancava, che Ken non è riuscito a dare, e soprattutto ci ha messo della grinta. L'abbraccio a Scesni sullo regore parato è da appendere in camera, è l'assist che fa Locatelli per l'inizio di monta, è fenomenale. Bravo al brito. E queste erano un po' le considerazioni che avevo da fare. Fatemi sapere anche le vostre qui sotto nei commenti, ma fare le pagelle su questa partita qua è abbastanza complicato. Noi ci vediamo in un prossimo video per parlare di mercato e di futuro della Juve perché bisogna capire un po' come risolverla adesso senza chiesa.